la bellezza del feron si trova in quei luoghi dove l'uomo non ha ancora appoggiato le sue mani in quei luoghi irradiati dalla purezza della natura e nel nostro particolare caso del ghiaccio oggi cari avventurieri ci rechiamo nelle meravigliose lande innevate di una fredda regione colma di storia stiamo parlando di ice windale la terra artica del feron prima di cominciare però vi diciamo che non saranno presenti molti degli argomenti trattati nei videogiochi ma si farà riferimento soprattutto ai contenuti bibliografici e quindi a vicende non canoniche della saga videoludica di ice windale tornando a noi iniziamo con dire che questa regione ha passato le ere sotto la popolazione dei northlander meglio conosciuti come gente del nord questo popolo non nacque però in queste lande bensì le colonizzò raggiungendole dopo la divisione dell'impero di hillenfarn un regno elfico che resistette alla prima fioritura e alle guerre della corona che però negli anni seguenti scomparve per formare altri regni minori dopo aver raggiunto i primi territori la gente del nord si spostò sempre più a nord ribattezzando quelle terre con il nome di ice wind dale le vallate e le lande localizzate dagli esploratori del luogo sono tutte costituite da una tundra ghiacciata che si estende in lungo e in largo in questo splendore bianco innevato esistono pochi insediamenti conosciuti come le dieci città le dieci città sono una confederazione che vede alcuni stabilimenti civili villaggi o cittadine più o meno grandi intente a collaborare tra di loro per un reciproco sostegno nell'affrontare i tanti problemi che il gelo di ice windale riesce a portare esse sono principalmente villaggi focalizzati sulla pesca e sono divisi tra loro da tre laghi lac dinneshir mer dualdon e acque rosse questi tre laghi sono congelati anche in estate e la loro temperatura è così bassa da poter uccidere un uomo adulto persino nei giorni più caldi a questi confini naturali si aggiunge anche il tumulo di kelvin un imponente monte alto più di mille piedi sul versante nord di questo monte poi troviamo una particolare caverna da cui il leggendario draw driss durden raggiunse la superficie e si addestrò come ranger gli attuali abitanti di queste lande sono pescatori artigiani ranger e fabbri ma vi sono anche esperti minatori interessati alle preziose pietre del monte kelvin al loro seguito ovviamente vi sono molti mercanti che non si preoccupano del freddo e che sono interessati di più ai guadagni che ai loro raffreddori la religione predominante è quella di tempus dio della battaglia ma senza contare tutte le altre religioni minori portate da coloro che si sono rinfugiati in questo magico luogo congelato la razza predominante sono gli umani ma sono presenti anche mezzelfi e una minoranza halfling la vita di ognuno di questi non è facile ad icewindale essi infatti sono tormentati da molte minacce come ieti tribù goblin e barbari orcheschi che vivono nelle terre selvagge niente però eguaglia il pericolo che possono portare i numerosi draghi bianchi che popolano i ghiacciai della regione per comunicare velocemente tra di loro e per segnalare eventuali pericoli le dieci città usano i portatori di notizie strumenti costruiti in vetro che riflettono i raggi solari e li proiettano a lunga distanza traducendo i messaggi in una lingua nota soltanto alle dieci città la regione di icewindale è composta dunque dalle dieci città che si riuniscono in consiglio attraverso rappresentanti scelti per prendere delle decisioni che influenzano tutta la regione di icewindale esse sono l'onlywood una cittadina che sorge sulle sponde del lago mer dualdon ed è conosciuta per essere stata guidata in passato dall'alfling regis uno dei compagni della sala come portavoce kair koenig una delle cittadine che confina con il lago lak dineshir essa è conosciuta per le grandi quantità di pesce che riesce a procurare kair dineval cittadina che confina con kair koenig e con cui condivide gli stessi metodi di pesca la famiglia regnante della cittadina idinev da cui viene appunto il nome fu vittima di alcuni attacchi orcheschi che tolsero la vita a moltissime persone col passare del tempo gli antenati dell'attuale popolazione ripresero possesso del vecchio castello e della cittadina termalane una cittadina che prende il suo nome dalle minieri tormalina un particolare minerale era la casa della famosa katty brie anch'essa compagna della sala targos è la seconda più grande cittadina di icewindale il suo porto è sviluppatissimo e permette la caccia della trota testona il pesce simbolo della pesca di icewindale istiven uno dei villaggi che cercò di evolversi più velocemente possibile in passato quest'area veniva tempestata da giganti del gelo dogan's hole la più piccola delle dieci città ha una popolazione di solo 100 abitanti circa e quasi tutti pescatori nella cittadina è presente un luogo storico le venti pietre di trum un circolo di rocce di granito che ricorda vagamente la composizione del nostro stonehenge goodmead una cittadina molto piccola che non riesce ad accumulare molta pesce e dunque esporta molto poco bremen questa città subì le ire della legione della chimera una compagnia malvagia che combatteva contro le discriminazioni delle razze miste come mezzelfi mezzorchi dragonidi eccetera ma che divenne presto fuori controllo a causa della malvagia guida di yaktuk sevim prole demoniaca di bane brin shender giungiamo infine alla capitale di icewindale rigogliosa e focolare eterno tra i ghiacci situata su di una collina a sud del tumulo di kelvin brin shender ospitò driss d'urden e bruenor battlehammer compagni della sala durante le invasioli barbariche che miravano a distruggerla fu salvata inoltre da tiago bain ray maschio drow esperto di armi appartenente alla casata di driss che respinse un demone noto come hertu signore dei balor durante la sua seconda venuta in memoria di tale scontro e di tale vittoria una statua del drow si in quel luogo dopo aver esplorato in breve le dieci città passiamo all'evento che più le scosse e che più mise in crisi la pace delle terre nevose di questa regione la battaglia di icewindale questo evento vede come principale antagonista il famoso akar kessel un mago proveniente dalla torre degli arcani della città di luskan da noi già incontrata akar kessel non era un mago particolarmente potente ma era molto furbo astuto e schifosamente subdolo si formò alla torre degli arcani sotto la guida di morcai il rosso un arcimago che vedeva kessel come suo figlio akar però fu persuaso da dandibar un mago della torre ad uccidere morcai promettendogli un posto di alto livello e una formazione verso un potere superiore dandibar però lo ingannò e lo esiliò nelle terre nevose di icewindale ci troviamo nell'anno 1351 cv per caso forse no kessel si imbatté nell'artefatto da noi già incontrato come crescini bone meglio noto come la scheggia di cristallo l'artefatto prese il controllo della mente di kessel e gli fornì un potere a dir poco smisurato grazie ad essa infatti rese schiavi un immenso numero di orchi goblin e troll formando un esercito degno di un re negli anni seguenti invece riuscì a sottomettere il demone da noi già citato come ertu signore dei balor e i barbari della tundra uomini organizzati in tribù già ostivi alla civilizzazione di icewindale e quindi facilmente controllabili si proclamava tiranno di icewindale e i suoi piani sembravano prendere forma mentre le battaglie iniziavano a fiammeggiare gli eroi che formeranno poi i compagni della sala iniziavano a respingere gli eserciti di kessel attraverso anche l'aiuto delle dieci città drist respinse il demone ertu nell'abisso da cui era venuto bruenor e kettibri respingevano le ondate degli eserciti che si dirigevano verso la capitale brinschender wolfgar convince i barbari della tundra a cambiare il loro schieramento combattendo così per icewindale e regis riuscì a svelare i piani di kessel si svolse poi lo scontro finale tra drist e kessel sulle pendici congelate del tumulo di kelvin dove un incantesimo mal riuscito causò la morte dell'incantatore la pace tornò sulle distese bianche di icewind ma nel 1485 cv un mago apprendista di nome pallidor della torre degli arcani di luskan organizzò una spedizione di nani nel tumulo di kelvin alla ricerca del cadavere di kessel quello che troveranno sarà un white un kessel risorto nella non morte a causa delle influenze della scheggia di cristallo kessel voleva disperatamente riunirsi con il manufatto e cercò ogni bricelo di essenza rimasta sulla montagna condusse quindi gli esploratori nanici dinanzi alla torre che aveva costruito sul monte crystal tirith col passare del tempo la struttura della torre si riversò nel ghiaccio trasformandosi in polvere e creando quello che ad icewindale è conosciuto come ghiaccio nero dopo aver toccato la struttura i nani della spedizione iniziarono ad uccidersi a vicenda in preda alla follia sotto il ghigno di akar kessel l'ultimo nano rimasto in vita era barry camberstone che venne incoraggiato dal non morto a creare oggetti infusi di ghiaccio nero e diffondere tale pratica in tutta icewindale chi veniva affascinato dalla bellezza e dalla potenza del ghiaccio nero era più incline alla malvagità e lentamente kessel approfittava di tali forze per ricreare un esercito di non morti egli verrà fermato da un gruppo di avventurieri temerari che combatterono nelle sue sale ghiacciate e oscurate dal ghiaccio nero dopo aver esplorato la storia di questo luogo ovviamente lasciamo a voi la bellezza di poter esplorare le altre vicende legate alla saga videoludica di icewindale lasciandoci il gelo alle spalle ci inoltriamo adesso in una particolare caverna del tumulo di kelvin per addentrarci nel fatale intrigato sottosuolo avvicinandoci sempre di più ad una città che brilla di luce violacea alla prossima puntata con menso berrazan la capitale sotterranea dell'impero drow di luce violacea alla prossima puntata con menso berrazan la capitale sottosuolo avvicinandoci sempre di più